Consiglio comunale ad alta tensione a Venetico dopo che un comitato di cittadini si è costituito e protesta contro lo spostamento di un pilone dell'elettrodotto da Roccavaldina a Venetico all'interno del centro storico. Il consiglio comunale è stato anche sospeso e la protesta si è protratta per due ore in modo da coinvolgere l'Assemblea cittadina e l'amministrazione di Francesco Rizzo su questa problematica. Cittadini e comitato si sono fatti sentire come già accaduto nel territorio di Pace del Mela. È stato deliberato infine di istituire un tavolo tecnico tra comune, comitato e terna in modo da discutere di questa vicenda e spostare o interrare i cavi che minacciano il vivere tranquillo di Venetico. Sono a capo del comitato per la tutela di Venetico che si è formato di recente in seguito alla posa dei piloni per l'elettrodotto a 380.000 volt che si sta attuando dalla Calabria fino a Sorgente dopo Milazzo che sta creando grandissimi problemi in questi anni. Il Venetico superiore che era fuori da questo problema è stato coinvolto di recente per una modifica che è stato fatto al piano originario e ci siamo trovati con questo traliccio enorme e devastante, con un impatto ambientale pericoloso per il Paese e per la salute dei cittadini e abbiamo cercato quindi di organizzarci per vedere se è possibile creare una situazione di allerta e creare le condizioni per poter modificare questo tracciato che a noi sembra non rispondente alle necessità sia dell'elettrodotto stesso sia alle caratteristiche dell'ambiente.